Salve a tutti e benvenuti su Weird Games, io sono Beriader e questo è Star Wars Jedi Fallen Order. Avevamo lasciato Kal su Kashyyyk, agli ordini di Saw Gerrera. E no, anche qui infatti. Abbiamo visto, lui non è interessato al bene degli Ewoki. Il fatto di liberarli è semplicemente un surplus, e anzi, gli servono perché altrimenti non avrebbe la possibilità di colpire realmente l'impero. Non senza la loro forza. E' per questo che ha cercato Tarful. Comunque... Di qui si può andare? Parrebbe di sì. Sì, anche perché non mi pare che abbiamo molte alternative. O forse sì. Non ricordo cosa ci siamo lasciati alle spalle. Ah, sì, 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 era di qua. L'unica alternativa era di qua. Anche se... No, non li posso targettare, quindi sono soltanto un elemento dello sfondo. Oh, questa è la scena del trailer. Sì, sì, divertitevi. Uiii! Ah. Perché continuate a sparargli addosso? Questa è una cosa... Sarebbe una cosa da indagare. Sì, scansiona, puoi farlo, piccino. Controllerò. Oh-oh. Sempre, sempre esplorare. C'erano guerrieri vuoti. Lo usavano come nascondiglio nella battaglia contro l'impero. Ah. Potevo prendergli alle spalle. C'è sempre qualcosa che sfugge, dannazione. È impressionante, è pieno di elementi. Allora, cos'hai scovato? Impulsività e potenza. Ecco cosa ho trovato. Apri, per favore. Grazie. Salve, tu. Salve. Come andiamo? Ti sconfiggeremo. Aha. Qualcun altro lo attacchi. Ehi, allora. Si sta curando. Seguitelo. Ci sta massacrando. Esatto. È proprio quello che sto facendo. Salve, tu. Perché non vieni? Non hai aiutato i tuoi amici? Sei un vigliacco. Sei veramente una persona orribile. Ah, no. Ecco qual è il punto. Vieni qua. Fammi divertire. E tu, che le hai avvertiti? No. Ecco. Così ti impari. Ma... No, l'ho fermato proprio male. Forza, riparti, dai. Dai. Non è proprio il posto più adatto per meditare e riposare e tutto il resto, però... Ok. Se tu sei convinto, Cal... Chi sono io per fermarti? Ah, ma perché c'è quello? Capisco. Vai, vai, vai! Poi magari ho tutto il tempo, eh. Non lo so, ma... Per sicurezza. Oh. Hola. E ha il bastone delle guardie di Grievous. Ti farò soffrire. Non esiterò. Tre vage. Confrontami, traditore. Traditore di cosa? Sardizierò. Per essere un traditore dovrei aver giurato obbedienza a qualcuno. Cosa che non ho mai fatto. Affrontami, traditore. Combattimi, Gliacco. Sbagliato tasto. Non posso fallire. Sedi. Clicca scarsa. Sei così fragile. Non pensare di sfuggirmi. Chi ci pensa? Non mi sfuggirai. Eh no, l'hai già detto. Prima o poi ti stancherai. E prima o poi tu morirai, tipo adesso. Ti abbiamo messo in fuga. Avanziamo. Sei rimasto bloccato. Ci penso io. Non avevo mai visto un soldato come quello. Devi liberare i vuchi tenuti prigionieri. Muoviti, cedi. Eh, muoviti. Se non mi apri. Strettino, eh, BB. Oh, no, per favore. Ci siamo dalle pareti. Colpiamo il nido. Ah, allora ok. Bene. Sono finito. Non puoi farcela contro di noi. Ahia, ahia. Vinceremo facilmente. Non riesco a starci dietro. Addosso. Eh, tostarelli loro, eh. Soldati inceneritori. Sì, lo sapevo. Lo sapevo. Come cacchio parlo? Sì, scansione anche loro. Che cos'è quello? Mmm. Perché penso che dovremmo attraversarlo? Oh, sì. Sovraccaricalo. Cosa? Cosa ho appena fatto? Cosa ho appena fatto? Oh, ho liberato tutta una strada. Ecco perché volevi spostarmi. Ma quanto ti voglio bene. Quanto posso volerti bene? Volevi accendere la tagliatrice? Eh sì, è proprio... È un coca-tù. Eh, lui vuole vedere il mondo bruciare. Però ci siamo lasciati qualcosa alle spalle. Ora. No, non è un problema. Andiamo all'albero dell'abilità. Saliamo di livello. Abbiamo sbloccato qualcosa di carino? No. Nada de nada. De nada, de nada. Sono curioso di vederlo, questo. Ah, ok. Stessa cosa con la spada a doppia lama. Ok, non mi sembra granché, ma... Vediamo. Sì, ne approfittiamo, non è un problema. Così ci facciamo anche qualche expo in più. Facciamo la prova. Oh, divertitevi. Ehi! Procedi, no? Ah, non lo stiamo più facendo, eh? Ah, maledetto. Ostile in avvicinamento! Basta, ho detto, dacci un taglio! Ah, 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 quanto sono simpatico! Non lo farò mai più, giuro. Vai! Alternativa a cosa, Cal? Oh, meglio! Cosa abbiamo trovato? Spada laser. Materiale opaco. Ok. Materiale opaco. Va bene. Sì, sembra che qui abbiamo fatto tutto. Non serviva fare tutto quel percorso. Perché abbiamo fatto tutto quel percorso? Forse c'è qualcos'altro? Che non ho visto? No. No, è tutto là. Salve voi! Come andiamo? Fate divertire un poco anche me. Ecco un altro, ecco un altro. Oh mamma, oh mamma. Sono tantissimi. Oh no, oh no. Moriremo. Sì. Affan... Ma... Simpatico, quanto siamo simpatici! Mo vedi? Mo vedi quello che te combino? Eh. Lo sta qua a far ballare la scimmia? No! Allora. Oh, divertiamoci. Forza, forza! Avanti, regnetti! Potete fare di meglio. Dovete sparare! Più veloci! Più veloci! Colpiteli! Riuscite a colpirlo? Vabbè, scottacca il Jedi! Anche tu, forza! Ecco. E mo? Eh? Chi è il Jedi, stupido? Eh? Grisel userà per cucinare? Quanto meno. Uh, che bella fine che abbiamo fatto. Mamma mia, come siamo morti male! Qualcosa di utile? Dunio! Sembra... Un nome vecchio italiano. Poi come... Tipo Tullio, una cosa del genere. Che postaccio. Che posto meraviglioso, direi. E calla! Oh, mamma! Oh, porca! Aiuto! Vim! Porca miseria! Porca miseria! Lancialo! Ahia! Steam! Qua! No! Matai! Uff! Ed è andata! Come? Non lo vuoi ispezionare? Strano! Ah! Che hai trovato? Droidi! Patuglia a base! Segnalo un'altra intrusione! È una specie di ragnatela! Ehi! Chi va là? Ah! Bene! Ottimo! I rimasugli della battaglia di Kashyyyk! Oh, commando! Siamo? Eh, sì! Dai! Questo è meglio, eh! Ah! Almeno è qualcosa di decente! Questa è una scorciatoia? Dove accidenti stiamo andando? E' immenso questo posto, dannazione! Ok, siamo tornati qui sopra! Ci può essere utile in qualche modo? C'è qualcosa di utile? Assolutamente no! L'unica cosa che poteva esserci utile scommetto che fosse questa! E infatti... Ma al momento non ci serve a nulla! Dovevo vedere di qua che cosa c'era! C'è qualche cosa! Ah! Una quantità di strade alternative che fa spavento! Eh, sì, ma perché? Che senso ha? Forse da qua con il dolpio salto si può fare qualcosa? No, vabbè. Per il momento scendiamo, è l'unica strada che abbiamo, quindi... Oh sì! Prendiamolo! Vediamo che sbagli! Ho fatto la mia parte! Tutte le unità le attivano! Oh yes! Quanto sono belli quando sono stupidi! Eccola la tagliatrice di qui sopra! Ora... Ok, molto semplicemente... Sei ancora vivo? Per ora! Sono quasi alla prigione! Bene! Nel pianeta impazzano richieste di rinforza imperiale! Di nuovo... Raggiungete i prigionieri! Riposiamo! Ne abbiamo bisogno! Ne abbiamo bisogno di quegli steam! E di qua? Un altro! Peste! Sono solo due! No! Meglio non avere troppe distrazioni! Movimenti sospetti! Tira! Nemico localizzato! È un pulmine! Attaccate! È indietro! Ti batteremo di sicuro! Ok, due in meno! Non statevi troppo vicino! Eh lo so! Questi però vanno eliminati! Ok! Adesso si può fare! Spero mi rafforza! Sì! Devi temermi! Direi proprio di no! Non esisterò! E quindi devi stare A terra! Qui serve energia! Energia, eh! Energia! Allora... Noi in realtà siamo passati direttamente qui, ma... Qui si poteva andare? Sì, avevo fretta di ammazzare quel tipo, ok? Di qua no! Non si può andare! Eh, infatti... Bisognerà fare un giro immenso, suppongo! Ok, di qua che cosa abbiamo? Una scorciatoia... Oh! Quello che avevamo visto prima! Molto bene! Bisognerebbe trovare il modo di raggiungere quel posto O trovare un potere della forza adeguato Ma io dico, no? Oh! Intanto c'è questo! Ed è un inizio! Un collare? Un collare per schiavi wookie! Già! Capisco! Poveracci! No, non credo che ce la potremmo mai fare Forse da qua c'è un modo per fare il giro? Si sta allungando un po' troppo il tragetto Controlliamo Che cosa? Eh, certo! Mamma mia! Lo schifo! Ma perché tutta questa cosa schifose? Oh miseria ascia! Sei una lumaca! Perché devi far così male? Ti piace un accidente? Ho capito Ma l'hai scontata Il tuo stare meglio Impulsività e potenza Interruttore Ok Stiamo facendo un bel giro No, no! Non volevo! Ecco Io non volevo passare qua però Diavolo Vabbè Tanto ci sarà modo di tornare indietro Su Scansiona, se Questa è la strada per le terre buie Deve esserci un passaggio Sì, ci sarebbe Se tu ti ricordassi Si può cercare in tutta la foresta È meglio tornare da solo Lì c'è qualcosa Lì c'è qualcosa pure Ci servono quei maledetti poteri Ci servono al più presto Beh Beh, però Qualcosa è servito Tutto ciò L'operazione si allarga al settore 7 E le cosiddette terre buie Brulicano di nemici Ok Allora possiamo tornare indietro Sì, avevo riposato È vero Mi saranno tornati anche loro? No Perché loro facevano parte Dell'entourage Del balordo Apri, apri Adente cariato Niente guardie Già Sospetta la cosa Siamo qui per liberarti Non sei solo Oh, droidi Lo sono ammesso i visi Oh, droidi Che bello Au 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 Vabbè, tutto qua Seriamente Ok Non mi sembra così Vabbè Beh, spero che si ricordino Che Tarful ha un aspetto diverso Qui sono praticamente fatti Col copia e incolla A parte il colore Ecco Felice di aiutare Fantastici Pronti a combattere gli imperiali Aiutiamo questi buchi A tornare a combattere Combattere gli imperiali Con le loro armi, eh Ma Chi Omari Non ho letto Non si muove Vorrei tanto fare questa pazzia O quanto vorrei farla Lo sento così strano Dobbiamo incontrarci con So Sì, ma io ho da fare adesso Ok Ok Eh, scusate Va fatto Oh È andata Fantastico Potenziamento Che gli abbiamo dato Che gli abbiamo dato Abbiamo sbloccato la scorciatoia Abbiamo sbloccato la scorciatoia 1 Sblocchiamo la scorciatoia 2 Ci facciamo una bella meditata di quelle Ignoranti Dopo di che Sì Sì Aguerdos Sì